Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma ci sono code a tratti tra Firenze Nord e Incisa Reggello e tra il Bivio 1 variante e Firenzuola sulla direttissima. Sulla A11 in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola per traffico intenso. Sulla Fipili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina code in uscita a Lastra Assigna in direzione Mare chiusa l'uscita di Pisa Nord Est in direzione Firenze per ripristino incidente. Ricordiamo infine l'obbligo di catene a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!